Signore e signori, benvenuti alla patch 14.16, una patch che è abbastanza leggera, siamo ancora in una fase del bilanciamento di Riot che stanno molto attenti perché ci stiamo avvicinando al mondiale, non vogliono sbilanciare troppo il gioco, e quindi, yeah vanno a fare comunque delle modifiche, alcune più ad alto impatto, altre, la maggior parte, più a basso impatto e sono principalmente cambiamenti per la solo queue, non qualcosa mirato al competitivo per quanto due o tre change ci sono anche per il competitivo Prima che qualcuno chieda, le skin dei T1 escono stasera alle 20, 20, 21, dipende da quando a volte Riot mette le 20, a volte le 21, non si capisce mai bene per quanto loro annunciano un orario anche la skin di Jace, quella prestigio sarà disponibile, vi ricordo, quella sarà disponibile con le essenze mitiche dovete comprarla attraverso quelle e nient'altro non solo, la modalità Swarm verrà rimossa il 19, quindi, yeah, non questa settimana, la prossima molto triste, vedere Swarm andarsene è un peccato perché è veramente ben fatta come modalità per quanto io l'abbia finita consumata spolpata del tutto, era veramente ben fatta e quindi un po' un peccato Lo split di Ranked, il secondo split di Ranked finisce il 24 di settembre e il 25 di settembre con l'inizio della patch 14.19 ci sarà in inizio il nuovo split di Ranked se non ricordo male la skin adesso sarà Sona e poi non mi ricordo che ci sarà per lo split 3 però la prossima skin dovrebbe essere Sona, quindi, yeah, evviva, c'è una skin vittoriosa per chi si è comportato bene Evviva, evviva Matchmaking improvements Allora, Riot ha spiegato un pochino su Twitter che cosa sarebbero queste migliorie al matchmaking La prima e più importante è il fatto che hanno modificato la regola di come funziona l'off-roll parity Allora, c'è questa regola nel matchmaking di Riot in cui se tu sei fuori ruolo tu vieni messo in un match contro un team che ha un'altra persona fuori ruolo Quindi, team blu, c'è il jungler autofillato, team rosso, c'è un'altra persona autofillata a prescindere dal ruolo A caso sto dicendo adesso Cosa hanno modificato? Adesso, entrambi i team avranno un numero similare di player autofillati o piazzati nel loro secondo ruolo E questa è la modifica più importante Il fatto che il secondo ruolo viene considerato come un autofill Che secondo me è una grossa sconfitta perché sinceramente i player almeno due ruoli dovrebbero saper rigiocare Scegli il primo, scegli il secondo, te li sei scelti da solo Almeno un minimo sai giocare in entrambi i ruoli Il fatto che adesso anche il secondo ruolo viene considerato come autofill è tipo, per me è una sconfitta piena Per la community sarà una cosa bellissima Oh mio Dio, wow, posso mettere il mio primo ruolo e l'altro vengo considerato come autofillato Non mi trovo molto d'accordo Però pace, è una questione di comunque far contendere la community alla fine della giornata Così sia, se è necessario Meglio rendere tutti più contenti Reduce how large the pickups could be between players in a game Che questa dicitura è così strana Ma qua si parla Soprattutto di quanto si parla di game in cui non ci sono smart Perché ci saranno sempre grossi gap di LP Nel momento in cui c'è uno smart con l'MR da smeraldo Ed è un platino o un gold Perché succede a volte L'avete visto anche in streaming O anche in streaming di altri giocatori più forti In cui ci sono player che dici Che cazzo ci fa questo player qua, questo MR Perché è uno smart o cose del genere Tipo col 90% di win rate Questa cosa però succederà meno spesso Nel game in cui tutti hanno lo stesso MR E tutti sono più o meno la stessa lega O comunque simili di divisione Non dovrebbe essere cioè un gap così grande Cosa che è abbastanza insignificante secondo me Ma pace La cosa più figa è il fatto che Ne abbiamo parlato tipo una settimana fa Qua sul canale Il fatto che c'è un red side e blue side imbalance Cioè cosa significa? Il red side, lato rosso della mappa È sbilanciato E spesso volentieri mettono i player più forti da quel lato A volte succede invece per i blue side Che è più debole E quindi mettono i player più forti da lato blu C'è questo sistema automatico nel matchmaking E dice bella metto il team più forte Un pochino più forte Da un lato o dall'altro È una differenza veramente piccola Cioè non è qualcosa di statisticamente rilevante Al punto da dire Oh mio dio questo team vincerà di più Semplicemente ribilancia Quello che è la possibilità di ambo i team Di vincere il game Perché se sei sul lato più debole È più probabile che tu prenderai calci nei denti Ma se sei un pochino più forte Abbastanza giusto per compensare quello scompenso Allora la teoria dovrebbe essere Che il match è più bilanciato Molte persone sono in accordo Molte in disaccordo su questo meccanismo Ma hanno migliorato la formula In modo da evitare che questa cosa sia così esagerata E eccessiva Soprattutto ad avere più alto Per quale motivo? I player di altissimo elo avevano il problema Che se sei master, grandmaster challenger Cosa succedeva? Sei master blueside, grandmaster redside Sei grandmaster blueside Sei challenger redside È questo il fatto Cioè tu avevi dei team veramente troppo più forti Lato rosso A confronto con il lato blu E questo si sentiva quando ti trovai in partita Ah bella Mi trovo contro Caps Wunder E tipo E Lioia Ah certo E Ansama E Mickey Botlane In solo Gyu E noi siamo Pippo Baudo E Gabibbo Dal lato blu Grazie Bello Sì Non era molto simpatico Questa cosa l'hanno ridotta un pochino Cioè da vedere Come sempre il discorso è sempre lo stesso con Riot Effettivamente ha funzionato? Sì No Scopriamolo Boosting and Ranked Manipulation Penalties Allora Questo punto Quando l'ho letto prima Perché ogni volta prima di iniziare il video Rileggo tutte le facce note Perché dico magari gioco qualcosa L'ho letto e ho pensato O scrivono qualcosa di Che tipo Beh la banniamo permanentemente i computer della gente Da ora in poi se lo fate Per favore non fatelo Speravo fosse quello Invece dicono Ah no Adesso la prima punizione che è un avvertimento Dopo che hai fatto boosting Win trading o The Ranked Adesso per 30 giorni non potrai giocare Ranked Ora Riot Se un giocatore può farlo per 10, 15 o 20 match di fila E solo poi viene punito Hai comunque influenzato I game di un paio di persone Nel mentre Se tu mi avessi scritto Bella dopo 5 game Ti becchiamo e ti banniamo da le Ranked per 30 giorni Magari ti avrei anche detto Bella buon change Questo non è un change Questa è una presa in giro Io spero davvero che si mettano Seriamente a fare Ad affrontare il problema Perché è una cosa che succede ad ogni singolo elo E lo dico da persona che anche in passato ha detto Bella sì gli smart ci sono Ed è una cosa che dovrebbe essere comunque ridotta o eliminata Quando possibile Infatti vari aggiornamenti al Vanguard e cose del genere Dovevano aiutare sotto questo punto di vista Un po' stanno aiutando Perché gli account ora costano anche 15-20 euro Un account nuovo di zecca Prima costava 2 euro Ma continua a succedere comunque Quindi se vedi che quelle cose non cambiano E che i player che facevano prima queste cose Lo continuano a fare Forse forse dovresti pensare Forse forse dovresti pensare Dire bella Banniamoli e basta Sta gente sta rovinando il gioco per gli altri Tanto arriverà sicuro il commento sotto Ma tanto tu fai la stessa forte sali challenge Che cosa c'entra Anche se tutte le persone partono sopra Platino Che è sopra 80% dei player E quindi le persone impattate sono veramente poche a confronto Ma tanto c'è sempre qualcosa per cui protestare Tolgono la pagina profilo della carriera Che nessuno usava Meno del 3% dei player Quindi dai qualcuno lo usava Quella pagina Non so perché visto che esistono questi siti E tanti altri che l'Olalytics Usate l'Olalytics è molto meglio Andiamo avanti Bilanciamenti I bilanciamenti che abbiamo visto sulla patch preview Sono quasi tutti gli stessi Azzir vede la sua health region aumentare da 3.5 a 5 L'armatura di base passa da 22 a 25 Questi sono cambiamenti che lo aiutano molto in matchup a D E soprattutto considerato il nerf del piedelesto recente Lo vanno ad aiutare E neanche poco Azzir è sempre rimasto una colonna portante del competitivo Vederlo ancora buffato Per quanto sia un buff piccolo Soprattutto a livello di sustain Che è una cosa che principalmente utilizzi in competitivo Cioè lo sfrutti al 100% Non la cosa che mi piace di più in assoluto Però oh pace Questa è la scelta che hanno deciso di fare Non un grandissimo fanno Ma ehi Questa è Vedete corchi Che l'hanno portato di nuovo a essere a D-carry E tipo continuano a nerfarlo Passo 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 Perché la gente lo gioca mid Forse dovrebbe far pensare Mmm Maghi fanno così schifo Che perdono da tutto Forse è un problema questo Sì Nerfano corchi Aumentando il costo in mana Della Q A 80 mana fisso Così che Sei costretta a dover gestire il mana Pensando Ok voglio traddare Oppure voglio arrasare Voglio pulire la wave Voglio fare questo Voglio fare questo Devi fare delle scelte Anche il cooldown aumentato in un secondo Ti costringe a fare il scelto Perché ce l'hai meno spesso disponibile Cioè il costo in mana È un problema relativo Per un pro player Perché dice Ok devo semplicemente cambiare I miei timing Di recall Devo fare questo 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 Devo stare attento A come usare certe spell Il cooldown è più importante Di un secondo Perché vuol dire Che hai meno Il clear totale Punto A prescindere da quanto mana Tu abbia Questa è una buona cosa Anche se mi aspetto Che corchi comunque Rimarrà presente In qualche modo Perché la gente dirà Oh no Devo prendere la lacrima prima E prenderà la lacrima E se ne sbatterà le palle Di questo nerf Non lo so Corki Corki e la mid lane Hanno una montagna di problemi Allora Io ho fatto tutto questo discorso Nella patch preview Su Katarina E su come Come la modifica Era effettivamente un buff E sono d'accordo Che la modifica sia un buff Mi dà molto fastidio La motivazione Che hanno tirato fuori Per cui Hanno deciso di fare Questa modifica Allora Katarina è un champion E negli anni Ha subito una montagna Di cambiamenti Per motivi diversi Perché era frustrante Per i player Da affrontare Perché era troppo forte Perché i temizzazioni Che c'erano Non funzionavano più Per Katarina E infiniti motivi Avanti 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 Poi hanno inserito Il sistema on hit E quant'altro Hanno dovuto ribilanciare Attorno a quello E ci sono stati I problemi Nel tempo Poi l'hanno trovato Un bilanciamento E la versione on hit Era quella più favorevole Ma comunque La maggior parte della gente L'abbia da app E continuava a trovare Successo con la build a p Ero convinto Che Riot Avesse tirato fuori Questa modifica Alla Q Che aumenta il danno base Della Q Di 10, 20, 30, 40 danni Più il 10% Di scaling a p Da 35% A 45% a p Dicendo Ok Stanno andando troppe persone Per la build on hit Vogliamo che vadano Per la build a p Piuttosto Che si basa Principalmente sul playstyle Di lanciare Arrassare con la Q Fare chip down Sul tuo avversario Di arras E poi fare all in Riducendo il danno Un po' di 5, 10, 15, 20 danni Dal secondo ranking in poi Anche qui Dici ok Stai ribilanciando il danno Portando più sulla Q Togliendone un po' la E I dead lotus Togli l'effetto on hit Del 5% L'efficacia Di effetti on hit Del 5% Ok Fino qua Tutto sensato Ma dirmi che la motivazione È perché la maggior parte Dei player di Katarina Build a P E opta per maxare la Q Nonostante la E E la build on hit Siano quelle più di successo Che tutti siamo d'accordo Che la build on hit E la build E il max di E Siano quelle più di successo Perché è una cosa Che non puoi ignorare Statisticamente Cioè lui lo guarda Dice ok La build on hit È più forte Punto Soprattutto in specifici Counter matchup Era veramente Specificamente Più forte Ma il fatto che tu lo cambi Perché eh Ma i player la giocano Così è tipo Ok rendere i player contenti Riot Ma questo è Questo è semplicemente Togliere un'opzione Nerfare un'opzione Per abilitare una build Che Se tu mi avessi detto Vogliamo incentivare Le persone ad andare Per la build a P Mi dico Bella ci sta Ma questo non è incentivare Qua è proprio dire Non ci piace questa roba Non la vogliamo È un Lo so che sembra Una differenza stupida Di mindset Ma è grossa per me Perché se tu mi dici Io voglio che ci sia Maggiore varietà Ci sto Qua mi stai dicendo Che ne vuoi meno Perché Non Mi ha dato molto fastidio Il contesto che hanno dato Su questo change Molto fastidio Però è un buff A prescindere è un buff Cioè Questo è innegabile Per quanto la gente strilli Che non lo sia È un buff Andiamo avanti Lucian Questo lo definiscono Ribilanciamento Perché dicono Adesso la passiva Ti scala col 5% Della D totale in più Bella È effettivamente un buff È innegabile questo Con un nerf Alla Q Che sono 10 danni meno Ad ogni singolo livello Il che impatta Il tuo arrasa Attraverso la lane Il che impatta Il tuo wave clear Quindi dici Sì è un nerf Questo uguale Di fase in corsia centrale Soprattutto perché Pulire la wave in fretta In mid lane È molto importante Poter arrasare Attraverso la wave Di minion È molto importante Diciamo che Speravo qualcosa di meglio Tipo Di nuovo Torniamo sempre al discorso Se i maghi sono deboli in mid E gli AD Carry Stanno vincendo mid lane E non è l'unico Lucian Non è l'unico Corky Perché abbiamo visto anche Draven mid essere giocato In LCK Abbiamo visto Zeri mid essere giocato Abbiamo visto Kaisa mid essere giocato Abbiamo visto Ezreal mid essere giocato Quindi Se vedi che tutti questi campioni Esistono mid lane Ma scusa Ma ti viene il dubbio Ma poi abbiamo anche Smolder Mid e Smolder Top Ma ti viene il dubbio Che forse i maghi sono deboli È mai venuto il dubbio Riot Che forse gli oggetti Da maghi Come primo Spike Sono più deboli Di quelli di AD Carry Che dovrebbero scalare In dei game Così eh Così Giusto per dire Sì Comunque bella È un nerf allusione in mid lane Pensiamo ai maghi Un pochino Perché Poi guardi Come Riot pensa ai maghi Metti 5% di scaling AP Sulla Q Di Orianna Che sono in totale 30 danni Quando hai 600 AP Che è la media Di quanto Con quanto AP Finisci in late game A 6 oggetti Ora Se questo è il buff Che la Riot pensa Che sia sufficiente Per andare a bilanciare Un campione Mago Che attualmente È messo una merda Perché Orianna È messo una merda Capisco perché i maghi Siano sempre così Una merda Perché Questa è una presa in giro Serio Non è una modifica Questa è una presa per il culo Anche se questa Questa è una presa per il culo Molto più grossa Cioè Questo quando l'hanno elencato Come ribilanciamento Mi ha fatto morire Dicono Ah ti aumentiamo l'armor Di 3 Da 28 a 31 Bellissimo Contro altre assassini A di mid È molto buono Questa cosa Abbiamo aumentato Il danno di 10 Al primo rank Di 5 Al secondo Uguale al terzo E ridotto di 5 Di 10 Al quarto e quinto rank Ma abbiamo messo Il 15% Di scaling A di bonus Quindi ha chiaramente La Q adesso è buffata Dici ok Sì Ha un migliore scaling Sulla di bonus Quindi ogni 100 di AD Guarda ogni 15 danni Quindi grazie Riot Bella A 100 AD Faccio sempre più danno Con la Q A prescindere No Non male Non male Ottima cosa Anche già meno di 100 Sono 65 Di AD Se non ricordo male La soglia Dici ok I danni bonus Dei mostri Passano da 50% A 75% Sulla Q Wow Questo così le permette Un pochino di junglare Tutto bellissimo Poi togli 6 12 18 24 danni Dalla W E dici vabbè Sono sui valori di base Quanta differenza fa È su ogni singolo autoattacco Per chi non lo sapesse Sì È finché Non consumi la Q Bello Grande Questo buff È stato già cancellato E poi decidi Di togliere Il 50% Dello Skilling AD bonus Non vedi Il 45% Scusate Da 125% Bonus AD Quindi togli Il 45 danni Ogni 100 bonus Di AD Dalla ulti Di Chiana Dovrebbe essere Un ribilanciamento Questo Cioè Se mi avessero detto È un leggero nerf Con un ribilanciamento Per mettere più Sulla Q Dico Ci sarei stato Ma loro l'hanno pensato Ah no Questo è un buff È un aggiustamento Che tende a buffare No È proprio una presa A me dispiace Per i Chiana main Cioè È così strano È così Strana Questa cosa Allora Effettivamente In early game Tu farai più danno Ma post livello 11 Tu farai sempre meno danno Cioè già dal livello 6 In poi Tu ti ritrovi con una combo Più debole di prima Però Boh Questo change di Chiana Non mi piace Secondo me La outfixano con un buff Sono abbastanza convinto Che la outfixino con un buff O che aspettano due settimane Di dire Ops Scusate Abbiamo cagato fuori dal vaso XD No Questa è proprio no E Leggendola questa patch not Ho scoperto una cosa bellissima Che Dico Non ci avevo pensato Quando avevo analizzato La patch preview E abbiamo finalmente trovato Il motivo per cui La black cleaver Viene modificata In quel modo Allora Senna cosa vanno a fare Cercano di ribilanciarla Togliendole le skilling Da letalità Riducono l'attack speed Per livello da 4% A 2% Per ridurre la sua presenza Di DPS Riducono la quantità di critico Che lo danni ogni 20 stack Per ridurre la sua build Da DPS Da competitivo Che giochi Senna Tam Kench Quella Vogliono togliere Aumentano la cura di 10 20 30 40 Di HP Dici Bella roba Fichissimo Aumentano lo scaling a D Aumentano lo scaling a P Tolgono completamente Lo scaling di talità Anche lo slow scala meglio Con la D E con la P Tanta roba Sì La cura è lenta Per chi non lo sapesse Il last embrace L'immobilizzamento di Senna Adesso dura un quarto Di secondo in più Molto forte A prescindere Da qualsiasi voglia E lo tu ti trova Trovi Donate Shadow La ulti Adesso scala meglio Con la P Bellissimo Tutto fantastico Tutto incredibile E 20 di scudo in più E 10 di scudo in più A rank 1 e rank 2 Quando ho letto questo Ho detto Cazzo è vero La Q applica gli effetti on hit E la Q è tecnicamente Un effetto on hit Quindi Sì Senna può togliere due stack Può mettere due stack Di black cleaver Con un auto attacco O con una Q Adesso Me ne ero Comple E' una cosa Così stupida Quindi Senna Adesso fa Auto attacco Q E applica Quattro stack Di black cleaver Era l'unico Che non avevo pensato Quindi adesso Mi viene davvero Il dubbio Che l'hanno fatto Solo per Senna Perché serio Se no era soltanto Per chi buildava La Blade Il fatto è soltanto Il fatto è che su Twitter Dicevano E no L'abbiamo fatto Per il champion On hit Molto molto Funny Molto funny Riot Mai funny Quando Scarner Scarner è quel campione Che Ah L'abbiamo reworkato Perché nessuno Lo giocava Passato un paio di mesi A su rework Nessuno lo gioca Di nuovo Quindi Decidono Ah Eh no L'abbiamo nerfato troppo Baffiamolo un pochino 20 HP in più 3 di AD in più E uno scaling AD bonus Sulla cuda 60% A 75% Tutto bellissimo Tutto fantastico Oh raga Avete cagato fuori dal vaso Sto champion Di nuovo Purtroppo Era nelle mani del tizio Che ha inventato Smolder Che ha inventato Xande Quindi Non mi aspettavo niente di diverso Non mi aspettavo niente di diverso Vederlo di nuovo Con lo stesso Peak rate Che aveva prima Mi uccide Mi uccide completamente Fa troppo ridere Povero Scarner Questi change a Silas Quando li vedi Dici Subito dopo Due settimane dopo Che è stato modificato La gente deve ancora abituarsi Un po' E quant'altro Quindi devono abituarsi A nuove build E dicono Bella adesso la gente Build un po' di più La Road of Ages L'Hex e Rocket Belty Cosmic Dragon Ma vogliamo essere sicuri Che sia forte Quando li buildi Quindi gli diamo 25 HP in più Uno scaling HP Ha aumentato sulla passiva Sul bersaglio primario Importante Perché se no aumenterebbe Weaklier E la W Che subisce 10 danni in più Quindi Bella Abbiamo aiutato Silas Così che Può effettivamente Fare il suo lavoro Lo faceva già Il suo lavoro La gente doveva smettere Di buildare Leech Bane Come primo oggetto Semplicemente Perché molti ancora Buildavano Leech Bane E cazzate del genere Come primo oggetto E si E quindi Yeeey Baffa Silas Because why the fuck not Riot XD Questo è il classico cambiamento Che proprio sa di spregio Quando lo vedi Sindac Il danno per singola sfera Di Sindac Adesso fa 10 danni in più Sono 10 danni in più Per ogni singola sfera Che di base Vuol dire Sono 30 danni in più Sulla ultima prescindere Quando hai una sfera in campo Sono 40 danni in più Quando hai due sfere in campo Sono 50 danni in più Quando hai tre sfere in campo Che è molto difficile Però puoi riuscirci Se sei bravo Hai 60 danni in più Per ulti Sa proprio di Vogliamo uccidere gli ad carry Ed essere sicuri di riuscire a farlo Con Sindra Grazie Rivederci Buona giornata È molto buono Per il competitivo Cioè loro dicono Cosa aiuta molto Il competitivo Perché hai 30 danni in più Garantiti Cioè Il competitivo è molto È un focus molto importante Avere dei danni Che sono garantiti O dei controlli Che sono garantiti Cioè gli effetti Che funzionano 100% Sicuro Perché sono a target Hanno un valore altissimo Ma devono avere valori Sufficientemente alti Per essere ad alto valore La OT Sindra È un buon modo Per andare a buffarla Per il competitivo Non che ci mancasse Sindra Midlane Però almeno la dovremmo vedere Un pochino più spesso Anche se Un sacco di pro player La giocano un po' Tipo Un po' Un po' Poco convincente Vedere il danno minimo Della Q Devi aumentare di 5 E questo è il buff È una presa in giro Sono 5 danni in più Sulla carica minima Della Q E 10 danni in più Sulla carica massima Riot Per favore È molto Molto accondiscendente Questa cosa Non fatelo Per favore Wukong Wukong che vede 1 di armature in più Per singolo rank Della passiva Molto buono Perché ricordatevi Potete ottenere più cariche Della passiva Questa è tanta tanta roba Si parla di 6 armature in più A livello 1 In un 3 di prolungato E l'attack speed aumentata Della E Del 5% Attack speed A livello 1 Wukong con la E Non è per niente male Ora Con conquistatore È strano È strano Vederlo buffato Perché è il classico campione Che è molto semplice Molto di impatto Quando sai giocarlo correttamente E quindi È come vedere gare In buffato È sempre frustrante Però sempre dici Ok vediamo dove Vanno a parare Però questo è un buff netto E quindi sono tipo Cioè quando vedi Wukong che viene buffato È tipo Ti preoccupi e basta Soprattutto per il competitivo Perché Campioni semplici Che fanno cose garantite Sono sempre qualcosa In competitivo Altissimo valore Wukong adesso è di nuovo Uno di quei campioni Che fa quelle cose Per l'armatura Perché se buildi Black Cleaver Cosa eccetera eccetera Di maniera tankosa Tanchi Ma fai anche danno Un pillo pericoloso Un pillo La Black Cleaver Questo Mi fa morire Che anche qui Mettono Senna Proprio tra parentesi Per dire Facciamo un esempio Senna È per i campioni On it raga Per chi builda La Blade Of The Wiking Senna Comunque sì Questa modifica La regola Black Cleaver Che adesso puoi applicare Due stack Contemporaneamente Fuziona Fuziona sia per chi builda La lama del re Rovina Che per Senna Bella Per chi builda La lama del re Rovina Andare Black Cleaver Seconda È un'ottima cosa Buon per voi Lama del re Rovina È un nerf Per i campioni Da gittata E una modifica Neutra Per i campioni Corpo a corpo Fermi Per quale motivo Questa cosa Tu perdi 5 di AD E perdi 5% di attack speed E questo è un grosso nerf A prescindere Per i campioni da gittata I campioni da gittata Avranno sempre 6% di danno Anche il nuovo sistema Ma i campioni corpo a corpo Passano da 9% Della vita attuale A 10% Della vita attuale E uno dice Scusa Lapo Come fa quel 10 Quell'1% in più A fare la differenza Di 5 di AD E 5% di attack speed Caro mio spettatore Grazie per avermelo chiesto Perché l'1% Di vita attuale Su un bersaglio Basta che il bersaglio Abbia più di 500 HP E sono 5 danni in più Ora uno mi dice Vabbè Lapo Però col 5% di attack speed Comunque l'hai perso Assolutamente vero Mio spettatore Che sta facendo Tutte queste domande Che io non sento Per qualche motivo Ma ti ricordo Che ogni volta Che un bersaglio Ha più di 500 HP Tu stai facendo Più danno di prima A prescindere Per ogni singolo colpo Quindi Tu hai bisogno Effettivamente Di meno autoattacchi In totale Per portare il bersaglio Alla soglia Dei 500 HP Da quale punto In poi Tu perderai Tra virgolette Danni Cioè tu sei Più veloce A portare un bersaglio Che ha tanti HP O che siamo in late game E tu quindi tutti Hanno tanti HP Più basso in salute Più velocemente Quindi Per i campioni corpo a corpo La differenza È praticamente Significante A livello di PS Sarebbe da contare Qua e mettersi Con un foglio Excel Ma io posso farvi Anche questo foglio Excel E la gente strillerà Comunque Li ho già fatti in passato Per cambiamenti Ai vari oggetti La gente guardava Dice Eh no ma guarda In questo specifico caso Con 4 milioni Di AD e mezzo E 30% In questo oggetto Non è più forte Quindi Sì È sempre molto piacevole Discutere su internet Adora 20 HP in meno Da 100 HP A 80 HP E la live si è ridotta Da 3.5 A 3% Ora Io Sono un fan Dei nerf Agli AD Carry Perché Gli AD Carry ad alto elo Sanno quanto sono forti attualmente E gli AD Carry a basso elo Trillano Quindi Mi fa molto ridere Vedere questa dicotomia Molto Non potete immaginarvi quanto E vedere 20 HP in meno Sulla Doran Blade È tipo un grosso dito medio Ma non solo agli AD Carry A tutti È un dito medio Di i Fighter È un dito medio Agli AD Carry È un dito medio Ai duellanti Quindi sei tipo La Riot Di tutte le cose che potevi colpire Gli AD Carry Questo è quello che vai a colpire Davvero Riduci la Lifesteal Da 3.5% A 3% Perché sai Quel mezzo punto percentuale Di Lifesteal Che su un autoattacco Da 70 di 70 di Mezzo punto percentuale Di Lifesteal Sono 0 Virgola 35 HP Quindi In early game Finché Quando la tua Doran Blade Facciamo che tu hai 100 di AD 100 di AD Sicuri di mezzo HP in meno Per autoattacco Capite quanto è una presa Per il culo Cioè Quei 20 HP Sì Rendono la di Carry Solo lane un pochino Più fragile Bella Ma anche tutti i fighter E tutti i duellanti Che quindi devono stare là Guardate Ah che bello Ho un rischio più alto Di morire contro Quella di Carry Top lane O mid lane Yeee Ah Riot Nerfate gli AD Carry Basta Nerfate gli 20 HP A testa Certi AD Carry Hanno più HP A livello 1 Di molti fighter Che i fighter Dovrebbero essere La classe con tanti HP E poche resistenze E discrete resistenze Non poche Poche resistenze Sono AD Carry Fatevi due domande Su questa cosa Dead Timer Questo è una cosa Che sta triggerando Alcuni player Soprattutto quelli Un pochino più Più scarsi Non tutti E alcuni specifici Player più scarsi Che dicono Ah no Ma adesso questa cosa Distruggerà il gioco Per me Perché cosa fanno Cambiano i Dead Timer Tra il livello 1 E il livello 8 Aumentando di 4 secondi Il tuo tempo Di respawn Cosa significa Significa che Tu stai per più tempo morto Invece di stare morto Per 6 secondi Stai morto per 10 secondi Questo vuol dire Che considerato Incluso anche Il teletrasporto Tu stai perdendo Lo stesso tempo Del teletrasporto Di prima Perché se prima Tu Sponavi dopo 6 secondi E subito Ti teletrasportavi Non perdevi niente In lane Zero Adesso Con il fatto che ci sono 10 secondi Tu hai L'avversario Ha il tempo per recollare Tra il teletrasporto E il tempo di respawn Ho aggiunto E non puoi congelare La wave O comunque Puoi uscire Più velocemente Dalla base Questo Per chi gioca Ignite in top lane O mid lane È una grossa modifica E finalmente Ryle Perché top lane Se giocavi Ignite Eri un coglione Senza offesa Per chi giocasse Ignite Oppure giocavi TP e Ignite Allora eri un genio Perché potevi Effettivamente Sia aggredire Che comunque Teletrasportarti in lane Se facevi cazzate Ma potevi farlo Solo se Di tipo Camille Che aveva E Gwen Che avevano La mobilità sufficiente Per giocare Anche senza il flash È una cosa Che rende la triste Alcuni player Perché dicono Ah no Ma guarda Adesso S'hanno punito Più a lungo All'interno del gioco Perché muoio In early game Sì E Riot Per cercare Di far strillare Meno sta gente Fa una modifica Aggiuntiva Su come funziona Il Moment speed Quando tu sei morto Esci dalla base Tu ottieni 66,77% Di decay Movement speed Nell'arco di 5 secondi Nell'arco di 8 secondi Non solo Non è dal momento In cui responi Ma Dal momento In cui tu esci Dalla fontana Questo buff Quindi Questo buff Comincia a decadere Soltanto quando tu esci Dalla fontana Ed è molto generoso Il range E ti dura di più Quindi Avrai in modo Di tornare in lane Velocemente Anche quando sei Senza teletrasporto Con o senza Non fa differenza Ma vieni punito Più a lungo Questo almeno Non evita Quelle situazioni In cui Tu da top laner O da mid laner Ti trovi in una situazione Di merda Dopo aver ucciso Un bersaglio E lui torna in teletrasporto E risetta la wave Come vuole lui E tu ti trovi Congelato Esposto a schifo E' una cosa Che verrà sofferta Di più Ad altissimo elo Si parla Da diamond In su Perché anche a smeraldo La gente fa K alle wave Ma madonna santa Non potete immaginarvi Quanto Una roba ridicola Però Buono Perché Attualmente Questo qua Oltretutto È un nerf a baus Buono Perché Serviva Evitare Di dover Essere costretti A giocare In teletrasporto A prescindere E in toplino O giocare in teletrasporto O eri scemo Quindi Yeah Vabbè Modifiche varie eventuali All'arena Buff Nerf Quant'altro Però voglio farvi Voglio portarvi Al cambiamento Più bello In assoluto Non la rotazione Del scheme Mythica Che vi ricordo È sempre alle 8 di sera Ma questo Per domanda popolare Dei player I mastery point In In caricamento Sono stati Riaggiunti Adesso Potete far tremare I vostri nemici Mentre vedono Il numerino Molto grosso Che avete accumulato Congratulazioni Visto che Protestare E rompere il cazzo Per le cose Funziona Abbiamo ritenuto I mastery points In caricamento Bene Signori Questo è quando Per questa pace Io vi ringrazio Totti quanti E vi ricordo Di iscrivervi al canale Che managgia il cazzo Sono sicuro Che molti di voi Non lo fanno Ma se non l'avete fatto Oppure se l'avete già fatto Passate sul mio canale Twitch E fate la sub Questo è quanto Per questo video E io vi ringrazio E noi ci vediamo Al prossimo